Un polo logistico innovativo dell'Eurospin che servirà il centro e parte del centro-sud Italia. Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione del primo lotto con 400 posti e dentro la metà del 2026 il secondo. La riconversione della mega-aria che ospitava la cartiera Burgo in via Piaggio a Chiediscalo è in realtà. La soddisfazione del vice sindaco con delega alle attività produttive Paolo De Cesare è palpabile visto che dice si tratta di una scommessa vinta per riqualificare questa zona della città di Chieti. Oggi finalmente vediamo ruspe, scavatori, operai al lavoro. L'area come vedete è già stata bonificata, pulita, è sistemata e partono i lavori di edificazione di questo grandissimo, immenso polo logistico che come ben diceva servirà il centro e parte del centro-sud Italia. 110 mila metri quadri per 40 milioni di euro diretti di investimento. Il primo lotto contrattualizzato già parla, come possiamo vedere qui dal cartello di cantiere, di 11 milioni e 300 mila euro e ci saranno 400 nuove assunzioni. Io credo che questo sia il risultato più rilevante del mio mandato e oserei dire di questa amministrazione perché dopo 16 anni di chiacchiere e di totale inconcretezza da parte di chi mi ha preceduto realmente oggi vediamo sorgere un'opportunità per la città, un'opportunità di economia e di occupazione e di sviluppo produttivo che veramente segnerà il futuro non solo della città ma anche dell'intera regione Abruzzo per quella che è l'importanza di questo insediamento. Primo lotto che sarà ultimato quando? Primo lotto da oggi, da ieri 11 mesi e poi seguiranno altri lotti per, ripeto, un totale di 40 milioni di euro di lavori. Una promessa fatta durante la campagna elettorale e mantenuta, prosegue il vice sindaco. Da imprenditore volevo vedere ripartire quest'area industriale via Piaggio che ha veramente fatto la storia della nostra città e ha dato tantissime opportunità. Oggi soprattutto per i giovani queste opportunità non c'erano più, c'era una migrazione verso il nord o addirittura all'estero e grazie a questo insediamento che io personalmente ho seguito come assessore dell'attività produttiva ma penso anche all'ampliamento consistente e importante della Walter Tosto o della Bond Factory o la consentita demolizione che da 40 anni era ferma dell'ex zuccherificio che oggi ha un progetto ambizioso di ripartenza. Finalmente l'area industriale di Chieti riparte e con essa l'occupazione e quindi tantissime opportunità anche per i giovani di rimanere nel proprio territorio.